Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. In questo video ti porterò le anticipazioni dell'episodio in onda martedì 27 giugno. Ci avvicineremo a uno dei momenti cruciali della trama innescati dalla crescente follia di Mojgan che avrà un impatto significativo sugli eventi. La puntata avrà inizio con Demir che accompagnato da Unkar si arricchirà un importante colloquio con il procuratore capo Ejulid, una figura chiave nella vicenda. Demir e Unkar renderanno nota una rivelazione sconvolgente. Demir stesso è stato il responsabile della cacciata di sua moglie e della privazione dei figli, spingendo Mojgan alla disperazione, al punto da tentare il suicidio appiccando fuoco a se stessa. Tuttavia Demir ora se pente dei suoi atti e esiderà ritirare la denuncia presentata contro di lei. Il procuratore informerà che, nonostante la provocazione di Demir, il crimine commesso da Zuleyya rimane in piedi. Unkar interverrà, sottolineando che non intendono interferire, ma che Zuleyya è la madre di due bambini piccoli che hanno bisogno della sua presenza. Pertanto chiederà se sia possibile rilasciarla in attesa del processo, garantendo che non fuggirà. Successivamente, Fekeri racconterà a Ilmaz, Mojgan e Beice ciò che Unkar ha fatto per impedire la vendita. Beice commenterà, ammirata dalla sua coraggio d'azione, mentre Fekeri sottolineerà che Unkar è sempre stata audace e sarebbe perfino disposta a sacrificare la sua vita per difendere la sua terra. Grazie a lei Demir ha rifiutato di vendere, dimostrando una forte devozione. L'avvocato raggiunge il gruppo e annuncia che Demir ha ritirato l'accusa contro Zuleyya, garantendo così il suo rilascio in attesa del processo. La notizia riempie di gioia Ilmaz e Fekeri, che esprimono gratitudine a Dio. Mentre Mojgan li osserva attentamente. Successivamente, Beice si rende conto delle potenzialità di Zuleyya e afferma che la vita di Mojgan dipende da lei, ricordandole che Arnan è il figlio di Irma. Mojgan replica che Zuleyya non può influenzarla in alcun modo perché Ilmaz è al suo fianco. Tuttavia, Beice ribatte sostenendo che la sua vita è interamente nelle mani di Zuleyya e le suggerisce che, se volesse, potrebbe liberare segreti che potrebbero minare la sua relazione con Ilmaz. Mojgan reagisce dicendo che se Zuleyya avesse avuto qualcosa da dirne, l'avrebbe già fatto. Le invita a smettere di cercare di metterla contro Ilmaz e gli altri, sottolineando che ha già fatto tutto il possibile e ha perso il marito. Le chiede quindi di smettere di influenzarla e ribadisce che Ilmaz è il suo marito e che vive una Kukurova. Se Beice non è d'accordo può tornare a Istanbul e vivere la sua vita, ma se resta non deve più intromettersi. Nel frattempo, Unkar si trova davanti alla porta del carcere in attesa che Zuleyya venga rilasciata. Quando finalmente la vede, la abbraccia commossa. Unkar gli assicura che è tutto finito e che torneranno immediatamente a casa. Ilmaz ha assistito al rilascio di Zuleyya da lontano, osservando la scena con una mistura di emozioni. Mentre Unkar è in macchina con Zuleyya, le chiede con l'insistenza di non avere più contatti con Mujgan. Zuleyya si apre con Unkar riguardo un evento spiacevole. Durante il suo soggiorno in ospedale, Beice aveva cercato di ucciderla. Nonostante gli altri aver attribuito l'episodio a un semplice incubo causato dai farmaci, Zuleyya è convinto che Beice avesse intenzioni malevole nei suoi confronti e la considera una persona estremamente pericolosa. Una volta arrivata alla villa, Zuleyya viene accolta calorosamente da tutti gli abitanti. Saluta con gioia e poi si precipita nella stanza dei suoi bambini. Tuttavia, Zuleyya si trova di fronte a un'aspettata sorpresa. I suoi bambini non sono nella stanza. Poco dopo, Demir fa la sua comparsa e le chiede se pensa, dopo tutto ciò che ha fatto, di poter rivedere i suoi figli. Tuttavia, Demir chiarisce che l'ha fatta uscire di prigione solo per mettere a tacere le voci, non per perodorarla. Afferma che Zuleyya pagherà per il suo tradimento con la lontananza dei suoi bambini, poiché secondo lui i suoi figli stanno bene e hanno abitato una madre come lei. Unkar interviene, invitando Demir a riportare i bambini a casa. Zuleyya lo supplica, ma Demir ribadisce che da quel momento in poi dormirà con Farik e lavorerà come domestica, sottolineando che nessuno dovrà più chiamarla signora perché tornerà al suo stato di provenienza. Zuleyya implora Demir di restituirli i suoi figli, promettendo di fare qualsiasi cosa, ma lui la trascina via e se ne va. Piangendo, Zuleyya se aggrappa a Unkar e le confessa che è disposta a sacrificare tutto pur di riabbracciare i suoi amati bambini. Nel frattempo, Juleyya visita Sabatini in ospedale e gli comunica che Demir ha ritirato l'accusa contro Zuleyya che è stata rilasciata in attesa del processo. Sabatini si allegra per la notizia e poi le parla di un'ottima offerta di lavoro che ha ricevuto ad Ankara. Propone a Juleyya di trasferirsi anche lei con lui e di sposarsi subito così da poter iniziare una nuova vita insieme nella capitale. Juleyya risponde entusiasta che desidera davvero iniziare una vita al suo fianco. In quel momento Mosea raggiunge la coppia e viene informata che Sabatini ha ricevuto un'offerta come capo dipartimento della salute ad Ankara e che quindi partiranno da Kukurova. Mulca si mostra felice per loro ma confessa che sentirà molto la mancazza di Sabatini. Poi chiede se Zuleyya sia stata rilasciata dal carcere e Juleyya conferma che è uscita. Nel frattempo Beice incontra la donna di nome Nargul e le fa una minaccia avvertendola di non riferire a nessuno ciò che stanno facendo altrimenti la ucciderà. Questa donna cerca di rassicurarla dicendo che non dirà nulla e Beice le consegna una mazzetta di soldi. Nel frattempo Unca rincontra l'investigatore al quale aveva affidato l'incarico di indagare su Beice. L'uomo le consegna un dossier completo sulla donna contenente informazioni dettagliate. Tornata a casa Beice si trova faccia a faccia con Mujan che sta per andarsene a causa delle sue parole. In quel momento Beice le consegna una lettera anonima che ha trovato fuori dalla porta indirizzata a Ilma. Mujan chiede se debba aprirla e Beice risponde bruscamente che può fare come vuole perché ormai non le importa più di lei. Mujan apre la lettera e scopre che è stata Zuleyya a scriverla per Ilma. La zia commenta che Zuleyya è impazzita poiché nella lettera la donna confessa ad Ilma e il suo figlio e gli chiede di trovare un modo per poter essere insieme e vivere con i loro bambini. Mujan sconvolta maledice Zuleyya. Beice afferma che Zuleyya è pazza e che riuscirà a distruggere la sua famiglia. A questo punto Mujan chiede a Beice come può liberarsi di Zuleyya. La donna le consiglia di non far leggere la lettera da Ilma poiché questo potrebbe spingere a correre da Zuleyya e fuggire con lei oppure Demir potrebbe arrivare a ucciderlo. Mujan nutre un unico desiderio che Zuleyya muoia perché ritiene che solo così potrà finalmente trovare la pace che cerca. Poi supplica Beice di non abbandonarla e rarsi cura. Tuttavia mentre le due donne si abbracciano sul vuoto di Mujan compare un sorriso sinistro e compiaciuto lasciando trasparire la sua malvagità. Subito dopo brucia la lettera scritta da Zuleyya. Nel frattempo nella villa Fadik continua a chiamare Zuleyya signora. Nonostante le sue richieste di essere chiamata semplicemente per nome Fadik afferma che continuerà a rivolgersi a lei come signora anche se Demir non lo gradisse. Zuleyya a sua volta ricorda a Fadik che quando era arrivata nella villa lei e Demir dormivano insieme ed erano felici poiché aspettavano solo di incontrare Ilma. Era una semplice domestica e non aveva mai ambizioni di diventare una ricca signora poiché suo unico desiderio era di stare con l'uomo che amava. Tuttavia erano stati separati e lei aveva accettato quella situazione per amore dei suoi figli. Ora per riaverli con sé non le importa di svolgere il ruolo di una serva. Zuleyya si trova in cucina a lavorare ma Saniglia le consiglia di riposarsi e di non svolgere quelle mansioni. Zuleyya risponde che intende continuare a lavorare e mangiare insieme a loro chiedendo a Saniglia di permettere di fare il suo lavoro altrimenti Demir le rimproverà la sua negligenza. Mentre Zuleyya si trova fuori dal cancello della villa e impegnata nel gettare la spazzatura un uomo misterioso si avvicina a lei e le comunica che Ilma la sta aspettando nel bosco per un motivo urgente e importante. Curiosa e preoccupata Zuleyya si dirige nel bosco alla ricerca di Ilma ma rimane incredula quando si trova di fronte a Moshan che l'accusa di seguire continuamente Ilma. In preda una rabbia incontrollabile Moshan punta la pistola contro di lei e la costringe a salire su un grande masso dove una corda è legata ad un ramo penzolante nel vuoto. Con queste ultime rivelazioni il suspasso delle nostre anticipazioni raggiunge il culmine. Il diabolico piano di Beice sta per giungere a compimento e le conseguenze che le deriveranno saranno sconvolgenti e devastanti. Ecco terminate le anticipazioni di Terra Amara. Cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti e se il video ti è piaciuto lasciami un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!